Buongiorno, splendidi ragazzuoli e splendidi ragazzuole, anzi buonanotte, ma in realtà non so quando guarderete questo video. Sono qua semplicemente a darvi un po' di aggiornamenti, sarà un video molto veloce, anche perché molti di voi mi hanno chiesto cosa sto combinando in questi giorni, se te l'ho aggiornato il canale, e insomma con questo video voglio un attimino spiegare dove sto in questo momento, cosa sto facendo in questo momento. Allora, mi è andato relativamente bene, nel senso che, uscito da Spazio Games, ho iniziato già a lavorare per multiplayer, molti di voi già lo sapranno, sono diventato un redattore a multiplayer, ora scrivo articoli per loro, faccio video per loro, e è lì che ci sarà il pregianza DICE. So che tanti lo stanno aspettando, il gameplay completo di Dark Souls 3 commentato da me, sarà un pregianza DICE un po' diverso, nel senso che avrà la facecam stavolta, sarà forse leggermente più lungo del solito e verrà pubblicato settimanalmente su multiplayer. Rinizierà questo martedì alle 15, salvo cambiamenti di orari, ma dovrebbe cominciare questo martedì, non il giorno dell'uscita delle recensioni, che è lunedì, perché si accumulerebbe con troppa altra roba, ma comunque martedì voi avrete la prima puntata del pregianza DICE che dura un'ora, le altre saranno più brevi, ma la prima è una bella botta da un'ora, proprio perché è appunto la prima. Poi, appunto, tutti i miei articoli sui videogiochi li trovate su multiplayer.it adesso, scrivo per loro, mi hanno già assegnato parecchi eventi, ci sono un po' di anteprime interessanti in arrivo che ho curato per loro, e in generale andrò avanti a scrivere lì parecchio. Altra cosa, scrivo anche per la generalista, scrivo per Prismo, Prismo Mag. La mia review di Dark Souls 3 sarà su Prismo, quella uscirà lunedì alle 9 del mattino, che è il momento dell'embargo. Non è una review che va nel dettaglio tecnico delle meccaniche e del comparto grafico, ma è comunque una review abbastanza sentita, è molto lunghetta, perché sono più di 16.000 battute, se non mi ricordo male, ma comunque la mia recensione la trovate lì. E' anche una review senza voto, quindi una di quelle recensioni che vi dovreste leggere per capire, non ha il numeretto. Quindi sono molto contento di poter scrivere tra l'altro per Prismo, perché è un sito molto bello che mi piace parecchissimo, anche per multiplayer chiaramente, però insomma Prismo nella generalista è un sito che ho sempre apprezzato molto. L'altro sito per cui scrivo, anche se la mia collaborazione adesso sto ancora cercando di capire bene o male con che frequenza sarà, è JQ, per cui però scrivo di fumetti, quindi ogni tanto se girate per le pagine di jqitalia.it trovate dei pezzi sui fumetti scritti da me, perché sì, in quanto nerd completo, sono abbastanza esperto anche in quel campo lì. C'è un articolo per il momento su Batman vs Superman che non è una recensione come molti l'hanno scambiato, è in realtà uno speciale sul trattamento dei personaggi da parte di Snyder all'interno del film, ed è già pubblicato quello, e poi un altro paio di articoli che dovrebbero arrivare a breve, in generale, su altre cose, su Civil War 2 e quella roba lì. Quindi queste sono le cose che sto facendo adesso, sono quelli con cui sono attivo adesso. C'è il mio podcast, di cui avevo già parlato nel video di Addio, che è Tutto tranne il calcio, che è già la 22esima puntata, se non ero 21esima puntata, che registro con Simone Tempia, che è il creatore di Vita con Lloyd, se non conoscete Vita con Lloyd andatevelo a vedere su Facebook, perché è davvero una bellissima cosina, che su Facebook è molto molto rara. Lo trovate, il mio podcast, su iTunes, si chiama Tutto tranne il calcio, come ho detto, e su Querti.it, Querti non Q-W-E-R-T-Y, ma Q-U-E-R-T-Y.it, che è un sito appunto di podcast, pieno di podcast molto interessanti, dove viene pubblicato anche il mio. Poi che altro posso dire? Ah sì, il canale YouTube, molti vorranno sapere quanto mi dedicherò al canale YouTube. Chiaramente, ora come ora, sto già lavorando parecchio come freelance, quindi non ho tantissimo tempo per curarlo, ma ho comunque in mente di fare video un po' più frequenti. Continuerò a fare Near, molto piano, molto lentamente, lo so ragazzi, mi dispiace non poterli stare dietro, però come ho detto, non ho moltissimo tempo e ora tutto il tempo che dedico al di fuori del lavoro per me è denaro, quindi su YouTube non potrò stare molto fisso, però farò Near, lo porterò avanti, ho intenzione di finire quel benedetto World True, il Presenza Place, appunto, Near, e poi ho intenzione di fare altri super quirk e altre cose per il mio canale. Inizierò delle rubriche video su Multiplayer.it, probabilmente una dedicata e picchia dura, ma comunque stiamo un attimino valutando cosa potrei fare su Multi, e comunque non il rant su Multiplayer, perché sarebbe veramente, andrebbe comunque a essere tipo la quarta rubrica di opinionismo, non avrebbe senso su quel sito, quindi il rant forse lo porterò avanti sul mio canale YouTube. Non so ancora in che forma, devo preparare una sorta di studio con il green screen in casa mia, per il momento, perché appunto non ho i mezzi che avevo prima, ma dovrei riuscire a fare tutto bene o male, in modo sensato, ora vedremo, insomma, se riuscirò a riportarlo sul mio canale YouTube, oppure se andrà perso per sempre. Vorrei evitare che andasse perso per sempre, perché comunque era una rubrica che apprezzavo fare. E quindi niente, questo è l'aggiornamento complessivo, e spero che vi sia soddisfacente, che abbiate più o meno capito cosa sto combinando, se volete continuare a seguirmi. Per il resto, ci salutiamo, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!